Per me la vita al massimo è fare ogni giorno al massimo per realizzare i propri sogni, non lamentarsi che fa caldo, che fa freddo, che ho tanto lavoro, poco lavoro, non vivere in passato, in tanti pensieri al futuro, ma vivere in presente, in questo momento, è vivere al massimo, però sempre così, che dopo possiamo essere orgogliosi di tutto quello che facciamo. Per me la vita al massimo. Per me è il massimo di vita a fare ogni giorno il massimo per realizzare i nostri sni. Non mi si stagione, che è zima, che è tecchio, che abbiamo abbastanza di lavoro, ma poco di lavoro. Per me è sempre più spostato con tutto quello che abbiamo, per fare tutto quello che ci si tratta. Musiamo vivere in attenzione, proprio questo momento, e vivere al massimo. Ma sempre così, per cui possiamo essere forte, e che ci sono stati di potere. Per me è il nostro maximo.